404, votanti 401, astenuti 3, maggioranza 201, favorevole 114, contrari 287, la Camera respinge. Siamo all'articolo 16 ter, ho bisogno del parere del relatore, chiedo scusa, sull'unico emendamento. In questo caso il parere è contrario. Grazie, onorevole Allasia. Parere favorevole. Grazie, Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie, 16 ter, 400 San Marco, nessuno chiede di intervenire. Parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 394, votanti 306, astenuti 8, maggioranza 154, favorevole 44, contrari 262, la Camera respinge. Siamo alla votazione dell'articolo 16 ter, la votazione è aperta. Votiamo l'articolo 16 ter. Marrone. Caruso. Io gradisco i suoi saluti, però lei deve anche votare, sennò stiamo qui fino a domani. Bene. Marroni ancora non riesce a votare. Marroni ha votato, mi pare che hanno votato tutti. A questo punto la votazione è chiusa. Presenti 404, votanti 305, astenuti 99, maggioranza 153, favorevole 264, contrari 41, la Camera approva. L'articolo 17 non ha emendamenti, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Grazie. Grazie.